Sono riprese nella mattinata le ricerche di Alessandro Boneschi, 56enne di Verbania che non ha fatto rientro da un'escursione in Valle Antrona. L'uomo ha lasciato la macchina a seppiana, indicando il percorso che avrebbe fatto. Durante la notte le ricerche non hanno condotto a nessun esito. In giornata si attende... Grazie a tutti.